buongiorno video brevissimo per farvi vedere la tazza mcdonald che dopo tanti 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 ma tanti mesi sono riuscita a prendere perché l'ho dovuta prenotare perché erano finite tutte l'ho presa rossa ve la faccio vedere subito e intanto che ve la faccio vedere vi dico che in realtà io avevo voluto prendere la zuccheriera avevo 12 punti e ne servivano 10 per prenderla però quattro me li hanno invalidati non so il motivo anche perché io ho preso sempre i mac menu quindi cappuccine brioche in teoria non avrebbero assolutamente dovuto togliermi e quindi non ho potuto prendere la zuccheriera che avrei voluto e ho preso questa come alternativa utilizzando i cinque punti vi lascio il video qua questa qui è la tazzina carina e dice c'è scritto la vita è bella e c'è disegnata una bicicletta dentro è tutta rossa e c'è scritto e dentro c'è la scritta mcafè come vedete e sotto c'è scritto villa d'este non si vede bene o un tivoli per mcafè appunto vi metto la foto perché non si vede un gran che bene e il piattino è questo sotto è fatto il sughero poi sopra c'è la ceramica rossa che è un po rovinata non so come mai dovessere insomma carina nel complesso e niente quindi per questo è tutto fatemi sapere che tipo di tazzina avete preso voi per questa raccolta alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.